buongiorno a tutti mi chiamo Giorgio sono l'incaricato della forever sono qui con la mia capogruppo perché voglio offrire a te un lavoro da casa con noi tramite questo video conoscerai un'opportunità di lavorare di creare un business in proprio senza investire migliaia di euro chi ci può spiegare meglio in cosa consiste questa attività che una persona che lavora con successo con la forever da 18 anni lei si è creata una sicurezza economica e tu puoi duplicare il suo successo resta con noi fino alla fine ci sarà un regalo ciao Tina come stai ciao Giorgio tutto bene tu tutto bene grazie salutiamo anche i nostri amici che ci seguono su youtube oggi abbiamo pensato di parlare di lavoro perché Tina hai scelto questo lavoro perché avevo un sogno da realizzare io nel 92 quasi per caso sono capitata a Firenze e ci sono andata a vivere per un anno e lì mi sono proprio innamorata in Italia sono tedesca e però dopo un anno sono ritenata in Germania perché la situazione lavorativa era molto molto difficile 10 anni più tardi poi ho incontrato incontrato la forever e dopo attente ricerca ho capito che era idea l'ideale per trovare sicurezza economica anche in Italia però all'inizio ho avuto molto paura di non essere capace così ho cominciato soltanto nel tempo libero a lavorare con la forever da casa mia e nel tempo lavorativo lavoravo con la Caritas a tempo pieno nel mio tempo libero allora ho cominciato a imparare come fare marketing diretto come presentare i prodotti come insegnare ad altre persone a lavorare da casa sua loro dopo otto mesi poi ho avuto il coraggio di lasciare il mio posto alla Caritas e licenziarmi fare trasloco per l'Italia e mettermi a tempo pieno con la forever grazie Tina ti farò qualche domanda oggi quali sono i fattori che apprezzi di più nel lavoro da casa allora ci sono tantissimi vantaggi lavorando da casa per me quelli personalmente più importanti sono la libertà e la sicurezza la libertà totale perché posso lavorare dove voglio quando voglio quanto voglio con chi lo voglio e lo posso fare a modo mio per esempio spesso di mattina sono ancora in pigiama a lavorare perché se non accendo il video nessuno mi vede ho fatto anche lunghissime vacanze da quando lavoro con la forever la più lunga vacanza era tre mesi in Costa Rica io posso stare in Costa Rica al telefono o al computer senza stare lì 10 ore a giorno ma soltanto quello più necessario e quando dopo tre mesi in Costa Rica sono ritornata a casa avevo più soldi sul mio conto corrente di quello che c'era prima semplicemente perché in Italia abbiamo il cliente club il cliente può acquistare all'azienda forever anche quando io sono da tutta altra parte del mondo e questo però è il fattore piacere l'altro però è più importante quasi perché la sicurezza perché oggigiorno sempre più persone hanno la insicurezza lavorativa questo qui invece mi da da a tempo pieno 17 anni e mezzo la totale sicurezza di non poter fallire perché non ho costi fissi non ho grandi spese lavoro da casa mia già la casa la devo in qualche modo mantenere e nessun capo può licenziarmi no in questa attività non si può assolutamente fallire e l'unica possibilità per non riuscirci e smettere prima di essere arrivato a a un guadagno con cui si possa vivere no una volta superata la fase iniziale vuol dire ti crea un giro di clienti ti gira e ti crei eh instruisci un un gruppo di collaboratori ti sei creato una una sicurezza economica che è molto difficile oggi giorno trovare grazie Tina ci puoi spiegare in cosa consiste l'attività di incaricato indipendente forever living sappiamo che è un'attività che si può svolgere sia part time che a tempo pieno e che è regolata dalla legge 173 del 2005 si noi lavoriamo da casa e abbiamo in fondo due compiti vuol dire troviamo clienti per l'azienda forever poi li coccoliamo facciamo servizio clienti e per chi ha interesse anche di fare carriera crea una rete di collaboratori un gruppo di collaboratori insegnando a loro volta come lavorare da casa però visto che tu hai parlato di legge e così via accena un attimino sul discorso inquadramento fiscale allora siamo inquadrati questa figura professionale si chiama incaricati alle vendite a domicilio questo per fortuna per fortuna è molto molto agevolato nel senso fiscale paghiamo soltanto 17,94 per cento di IRPEF direttamente ritenuto dalla fonte vuol dire quando ci arriva i soldi già l'azienda ha ritenuto le tasse e le ha versate allo stato questo è la ragione anche per cui questi redditi qui non sono non si deve dichiarare nella dichiarazione dei redditi perché sono già tassati e inizialmente quando uno comincia quasi a testare come l'ho fatto io nel 2002 non deve pagare né versamenti dell'inps né aprire la partita IVA all'inizio si chiama attività occasionale una volta che poi si supera 5 mila euro anni annui netto annuale lì si apre la partita IVA però anche questo non è così complicato come in tanti altri tipi di mestiere è molto molto semplificato grazie è molto interessante anche questo per rispondere a tutti gli amici che ci ascoltano praticamente cosa deve fare una persona che voglia incominciare a lavorare con noi? si all'inizio semplicemente si fa la registrazione online c'è lo shop online dove c'è la registrazione o come cliente o come incaricato e si fa il primo ordine si può scegliere prodotti a libera scelta oppure già prendere un kit preconfezionato per esempio come questo che è lo start pack chi se lo può permettere che questo sono intorno a 400 euro e la più piccola entrata sono attualmente 15 euro per un kit di materiale informativo una volta acquistato si comincia a studiare uno deve sapere un attimino che cosa c'è da fare abbiamo circa 100 prodotti si deve imparare a spiegare i prodotti ci sono tantissimo materiale a questo accenniamo anche poi dopo magari dove semplicemente tu hai la regola il tuo sponsor vuol dire per esempio Giorgio per esempio io ti aiuta in questo semplicemente impariamo a fare cosa dobbiamo fare e poi lo mettiamo in pratica è possibile praticare questa attività anche online? si certamente possiamo avere uno shop online possiamo utilizzare tutti i social media facebook instagram e così via certamente vari video youtube come stiamo facendo noi due qui però consiglio sempre di abbinare anche al telefono se sono soltanto messaggi o soltanto post non diventiamo un essere umano però con una voce dal vivo al telefono diventiamo più umani le abilità telefoniche ci sono delle persone che prendono il telefono in mano e lo sanno già da quando sono nati a fare le telefonate per bene altri invece devono impararlo però anche questo è un'abilità che semplicemente si può imparare si 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 bene quali sono i vantaggi di avere una seconda attività che si può praticare anche da casa? per me io l'ho fatto solo nel 2002 come seconda attività erano i soldi nel senso avere un po' di soli extra non fa mai male a nessuno però in fondo dovrei girare la domanda a te perché sei tu che lo fai nel tempo libro quali sono i tuoi vantaggi lavorando con noi? si effettivamente io svolgo l'attività di incaricato part time perché ho anche un'altra attività i vantaggi sono come abbiamo già accennato di non avere costi fissi per cui non c'è l'affitto e non ci sono le utenze da pagare perché lavoriamo in casa e anche di poter scegliere un orario di lavoro che sia compatibile con l'attività con Forever fra l'altro non abbiamo dei limiti territoriali per cui possiamo lavorare in Italia e anche all'estero in tutti i paesi dove è presente una sede Forever che mi sembra siamo 164 giusto questo si può fare logicamente con i mezzi tecnologici che abbiamo a disposizione come per esempio in questo momento io e te e Tina siamo distanti più di mille chilometri perché io sono a Torino e tu sei a Siracusa giusto volevo andare al mare e solo al mare a Torino non c'è il mare abbiamo le montagne si ti faccio ancora qualche domanda prima di concludere la Forever Living dà un supporto telematico a chi non vive vicino a una sede Forever si anche questo è molto importante perché siamo un po' sparsi non c'è allora nessuna necessità di andare a Roma per fare i corsi l'azienda ha preparato materiali di tutti i tipi che possiamo utilizzare per esempio come il manuale prodotti dove possiamo studiare le proprietà benefiche dei nostri prodotti poi c'è il company policy così si chiama il libroncino con le regole aziendali poi c'è un altro libroncino per esempio dove fare i primi passi per arrivare al successo con questo questo lavoro da casa no ci sono anche video corsi e poi c'è il giornalino mensile che viene chiamato notiziario Forever no inoltre il la Forever ha creato già tutto il materiale che noi possiamo dare al cliente il catalogo prodotti, brochure prodotti e dei plan vari vuol dire in fondo è già tutto preparato deve solo studiare e mettere in pratica Ina siamo arrivati all'ultima domanda ancora ce n'è ancora una possiamo parlare anche della formazione online? sì allora i cosiddetti web in art anche se vedo che la parola non lo conosce nessuno tranne me quasi sono praticamente corsi online quando li fa l'azienda sono praticamente come un video dal vivo dove uno non può interagire quando invece vengono organizzati altri manager della Forever come me allora spesso vengono fatti con il zoom che si ha anche la riga dove uno può shatare e fare una domanda all'interlocutore e questo viene fatto da medici, da naturopati a volte c'è un specialista di business o di comunicazione o uno che sa il suo fatto nel fatto per esempio di marketing nel social media marketing che sono tantissime cose Bene Tina mi sembra di poter concludere questa intervista e ti ringraziamo per la tua disponibilità ma Giorgio aspetta il regalo ah sì sì allora puoi parlarne tu Tina parlane pure tu sì allora io e Giorgio abbiamo detto facciamo questo video insieme allora offriamo anche qualche caramellina a chi ci è guardato allora chi si iscrive con Giorgio o con me come sponsor le regaliamo per un anno gratis un sito con lo shop online bene allora possiamo dire che cosa aspettate giusto basta andare sul sito che vedete in impressione scritto in fondo e il link è cliccabile e lì potete trovare tutte le informazioni naturalmente sia Tina che io siamo disponibili anche via mail whatsapp o anche al telefono per qualsiasi informazione perfetto mi è fatto proprio piacere fare questo nuovo tipo di lavoro insieme con te Giorgio grazie grazie Tina ti ringraziamo tantissimo e salutiamo tutti e arrivederci ciao salutati ciao 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 caro ciao 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 ciao